Siamo qui con Padre Giovanni. Innanzitutto, come stai e come sta la nostra comunità? Allora, grazie a Dio stiamo tutti bene. Intanto saluto tutti, a tutti auguro pace e bene. La nostra comunità ha ripreso tutte le sue attività dell'anno pastorale, anzi siamo molto impegnati perché, oltre che alla festa di San Francesco, che appunto accade in questi giorni, San Francesco è il nostro patrono, come è il patrono d'Italia, ma anche ci stiamo preparando alla festa della comunità, cioè dalla parrocchia, quindi gli impegni sono tanti. Quindi ringraziamo il Signore che ci dona la salute e anche la voglia proprio di vivere questi momenti così importanti per la nostra comunità parrocchiale. Vuoi raccontarci qualcosa riguardo alla festa della famiglia? Allora, la festa della parrocchia, che viene sempre celebrata la terza domenica di ottobre. Le attività sono tante. Attività, prima di tutto, attività religiose, perché la festa è una festa religiosa. La nostra patrona è Maria Madre delle Grazie, che tutti noi abbiamo nel cuore come appunto madre nostra e quindi vogliamo viverla bene questa festa, tutti insieme come comunità. Il programma religioso è molto intenso. Abbiamo la peregrinazio della nostra Madonna, quindi del quadro della Madonna, che viene portato nelle varie famiglie delle zone, della parrocchia, dove viene poi celebrato il Santo Rosario e la Santa Messa, lunedì, martedì e mercoledì. Abbiamo la processione dal piazzale Conad fino alla nostra parrocchia. È un momento molto bello, è un momento anche di manifestazione pubblica della nostra devozione verso la Madonna. E abbiamo poi il venerdì, dove il nostro Vescovo viene a presentare alla comunità, viene a presentare la sua lettera pastorale alla ricerca del tesoro. Quindi vogliamo essere presenti per appunto accogliere il messaggio che il Vescovo ci propone ed è una lettera pastorale che ci guiderà per due anni nel nostro cammino diocesano. Abbiamo poi il giorno della festa, il 16 ottobre, ci sarà la celebrazione solenne, la Santa Messa solenne, quindi il momento culminante della festa. La nostra chiesa, come potete vedere, è in piena ristrutturazione, e quindi anche all'interno ci sono le impalcature e molta parte della navata è occupata. Quindi quel giorno, ci auguriamo di essere veramente in tanti, ci trasferiremo per questa celebrazione nella chiesa di Sant'Agostino. Alle ore 11.30, il 16 ottobre, celebreremo la Santa Messa solenne nella chiesa di Sant'Agostino. Volevo semplicemente invitarvi a partecipare tutti perché questo è il momento più importante e anche, volevo dire, non ci sono soltanto che sono i più importanti, i significativi, ma ci sono anche i momenti di comunità insieme, c'è i momenti di giochi per i ragazzi, di attività ricreative, c'è il pranzo insieme del 16 ottobre dopo la Santa Messa, e comunque tutto è scritto nei manifesti e nel notiziario parrocchiale. I lavori di ristrutturazione che te hai accennato e come stanno proseguendo? I lavori di ristrutturazione stanno proseguendo, anzi direi hanno incominciato, hanno incominciato come potete vedere, anche le strutture esterne sono già state installate e anche all'interno della chiesa tutte le impalcature sono state sistemate e hanno incominciato a lavorare sulla parte, diciamo, del coro e ci auguriamo che questi lavori possono anche terminare presto per avere la nostra chiesa funzionale, perché adesso siamo un po' a disagio, come stavo dicendo prima, perché lo spazio interno è molto ridotto, però vedo che procedono i lavori, ci auguriamo che si finisca presto e che ritorni al suo antico splendore, non solo ma anche in modo particolare, alla sicurezza della nostra chiesa, perché stando in chiesa ci possiamo sentire sicuri, in modo che qualche pietra non ci cada in testa. Grazie mille Padre Giovanni per l'intervista e ci sentiamo per la prossima. Va bene, a tutti auguro pace e bene e arrivederci in tanti per la festa della parrocchia.